E' sempre la solita storia, la vedi, te ne innamori, pensi ai viaggi che farei con lei e alle avventure che vivrete insieme, al feeling che si creerà, vi capirete con un singolo gesto, è tutto perfetto. E poi? E poi non trovi il finanziamento giusto per portartela a casa. Questo è perché non stai acquistando da Ratti Auto, noi abbiamo sempre la formula giusta più adatta a te. Parlaci di te e ti diremo che finanziamento sei. Ratti no stress, valore garantito dopo due anni. Pensato per chi vuole essere free sull'acquisto dell'auto, paghi un piccolo importo iniziale e una rata fissa mensile e successivamente, senza alcuna penale, potrai scegliere se restituirla, rifinanziarla per alcuni mesi oppure riscattarla secondo il valore garantito durante la stipula del contratto. Il valore è garantito con una percorrenza di 15.000 km l'anno. Ratti easy, senza obbligo di anticipo. Potrai salire a bordo della tua nuova auto con rate piccolissime senza obbligo d'anticipo e se non ti sembra abbastanza, compresa nelle rate, avrai l'assicurazione per perdita del lavoro, decesso, infortunio o malattia grave. E ora che sai qual è il tuo finanziamento, un piccolo vantaggio Ratti per te con Ratti Relax. Guida oggi e inizia a pagare le rate dopo 90 giorni dalla data di effettivo acquisto. Ora non hai più impedimenti, la storia d'amore con la tua nuova auto è pronta a decollare. Visita il sito rattiauto.com e riserva con soli 100 euro la tua auto per 14 giorni. E poi vieni a trovarci nel nostro Ratti Lounge, dove il nostro sales manager ti guiderà passo passo per l'inizio di questa avventura.